... Alle 7 in diretta c'è la rassegna stampa di Fano TV. Buongiorno, occhio ai giornali. Un commento alla stampa del giorno. I giornali che abbiamo selezionato per voi in questa giornata, che è lunedì, caratterizzata come sempre dallo sport, sport che trova spazio negli inserti locali dei due quotidiani che abbiamo nel nostro touchscreen, nel Corriere Adriatico e nel resto del Carlino. C'è il tempo, ma c'è anche il santo del giorno da vedere. Allora, andiamo subito con ordine. Vediamo il santo di oggi, la cattedra di San Pietro Apostolo. Il sole sta sorgendo, anzi, a questo punto è sorto, perché sono le 7.01, ma sorge alle 7.00, e tramonterà 10 minuti prima delle 6.00 di oggi pomeriggio. Adesso diamo uno sguardo al tempo. Il protagonista del tempo questa settimana sarà l'anticiclone. L'anticiclone porta il bel tempo, porta il sereno, porta le temperature alte in questo caso. E dunque questo anticiclone si prende la scena, come titola trebimeteo.com. In settimana tanto sole e clima primaverile, inizio marzo, però forse cederà l'alta pressione, ma di questo parleremo più avanti. Intanto godiamoci queste giornate di bel tempo. I giornali Covid, due locali chiusi e un arresto. Il titolo d'apertura del Carlino di Pesero, sigilli ad un bar e ad un bazar, bevute fuori orario e troppa gente, colluttazione con i vigili, cliente finisce addirittura in manette. Ma la fotonotizia è per i vaccini di Saltamartini, che se li vuole comprare, dice lui ce li compriamo, vuole fare un po' come zaia in Veneto, si va a rilento, dice, e dunque serve una svolta. A Villa Fastigi il virus colpisce ancora, piange il padre di Ceriscioli, è morto, aveva 78 anni. La situazione delle Marche, Ancona, SOS, contagi diventano arancioni, 20 comuni su 47. E poi gli amici ammutoliti, la cronaca sempre dal Carlino di Pesero, con Fausto se ne va una parte di noi, l'uomo ucciso da un albero a Cantiano. A Fano Boni spesa 300 mila euro finiscono in bilancio. Sotto lo Sport, visse K.O. contro il Perugia, e poi Gentile e Ferrara a segno, l'Alma e Spugna, Mantua vince 2 a 0. Il Carlino di Ancona, invece, è lo Sport, con Gimbo Tamberi, che salta 2,35 metri, quest'anno nessuno come lui, sul tetto del mondo, parliamo di salto in alto, e poi Covid, in arancione 20 comuni, dopo Iesi, anche Ancona, Senigallia, Osimo e Falconara, il governatore dice la situazione è peggiorata. Corriere Adriatico, edizione pesarese, vaccini in camper nelle aziende, la proposta è di Confindustria all'Asur, e il presidente degli industriali pesaresi, Papalini, dice prima facciamo e prima potremo ripartire. Da oggi nelle farmacie comunali, intanto a Pesero c'è la possibilità di fare test rapidi, tra le prime farmacie, quelle di Soria e Cattabrighe, ma anche la cronaca con una lunga serie di incidenti sulle strade, sette feriti, grave anche un motociclista. Covid per Ceriscioli il dolore più grande, il papà non ce l'ha fatta. Gli odiatori contro la Segre, avvocato presente un esposto, e poi a Marotta la disperazione, l'esasperazione anzi di un'infermiera che protesta pubblicando poi i numeri, di call center che chiamano a qualsiasi ora del giorno e della notte al cellulare. E poi il blitz del Fano a Mantova, 2 a 0 appunto fuori casa, con 3 punti d'oro. Allora andiamo a vedere subito quali sono i comuni, i comuni che sono diventati rossi all'interno della regione Marche che è per tutti gli altri ancora gialla. Il Corriere Adriatico, anconetano sotto scacco, chiusi i confini dei comuni, 20 città diventano arancioni. Allora, c'è questa nuova ordinanza per la provincia di Ancona con divieto di spostamento fra tutti i comuni, divieto in entrate e un'uscita dall'intera provincia di Ancona. Le regole per chi è in arancione, più o meno ormai le conosciamo bene, bar aperti solo per l'asporto fino alle 6 del pomeriggio, ristoranti solo con l'asporto fino alle 10 di sera, poi c'è la consegna a domicilio senza orario. I negozi in linea di massima sono aperti, tranne i centri commerciali, dove nel fine settimana resteranno chiusi i negozi all'interno. Durante la settimana nei centri commerciali è tutto aperto. musei e mostri ovviamente sono chiusi. Tutto questo inizia da oggi, da questa sera, da oggi a mezzanotte fino a sabato 27 nei 20 comuni in zona arancione. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio quali sono questi 20 comuni in zona arancione. Sono Ancona, Iesi, Osimo, Senigallia, Falconara, Filottrano, Staffolo, Serra dei Conti, Polverigi, Cupra Montana, Camerata Picena, Monte San Vito, Maioati Spontini, Chiaravalle, Ostra, Loreto, Sirolo, Sassoferrato, Castelplagno e Castelfidardo. Ospedali sotto pressione, l'altro titolo dal Corriere Adriatico. Torrette al limite ma con 103 ricoverati Covid. Le Marche è sempre sopra la soglia dei 600 pazienti. All'IRCA di Ancona 45 degenti. Le vittime, le vittime sono 11 nelle ultime 24 ore del virus e 448 sono i nuovi positivi. Proprio come vedete, il padre di Ceriscioli, stroncato dal Covid, aveva 78 anni, Massimo Ceriscioli. Luca Ceriscioli, invece, il figlio, l'ex governatore, era stato dimesso nella giornata di sabato dal reparto di medicina di Marche Nord. Stava anche Luca Ceriscioli combattendo contro il Covid. Lui è uscito, invece il padre purtroppo non ce l'ha fatta. Sembrava che stesse un po' meglio, poi l'ultimo giorno ha iniziato a respirare male. Ma si parla anche di vaccini, vaccinazioni, perché sabato 20 è iniziata la vaccinazione per gli oltre gli over 80, coloro che hanno più di 80 anni, un po' in tutta la Regione Marche. Roberto Damiani, questa mattina, sulla pagina 2 del Carlino di Pesero, ha realizzato un'intervista molto interessante, ve la consiglio, perché c'è il Saltamartini Pensiero, l'assessore regionale, che è l'assessore regionale alla sanità, parla dei vaccini. Siamo a rilento, l'Italia in generale è a rilento, di questo passo ci vorranno anni per vaccinare tutta la popolazione. E allora che cosa dice Saltamartini? Saltamartini dice, li compro dalla Pfizer direttamente, un po' come vuole fare Zaia. Allora Saltamartini dice a Damiani appunto di avere due lauree, una in giurisprudenza e una in scienze politiche. Dunque uno che fa l'assessore alla sanità, chiaramente dice lui, non so nulla di medicina. E lo dico. Però, attenzione, ed è molto interessante quello che dice Saltamartini, da approvare al 100%, dice, però so di diritto, so di diritto e quando vedo che Ungheria e Germania hanno comprato decine di migliori di vaccini per conto loro, da Pfizer e Russia per lo Sputnik, fregandosene della ripartizione. Allora io dico che noi dobbiamo agire anche per conto nostro. Io mi ricordo bene di aver comprato come regione, dice ancora Saltamartini, un milione di tamponi da solo perché il commissario Arcuri non me li dava. Così come con le mascherine FP2 che ho pagato un terzo di meno di quanto ho pagato da Arcuri. Quindi io non ho bisogno di aspettare chi non decide. Faccio da solo. Se non vado a violare la legge e nel caso dei vaccini non c'è una norma che vieti l'acquisto autonomo, vado per conto mio. C'è un solo accordo con l'Europa ma se gli altri non lo rispettano io non mi sento vincolato. Poi parla anche dei monoclonali. Saltamartini dice non li abbiamo comprati perché costano 2.000 euro praticamente l'uno. Sono troppo cari. Io dovrei darlo a chi ha i primi sintomi cioè 37,5 di febbre ma ci vuole una banca d'Italia praticamente per pagarli a tutti. Ma noi possiamo produrli qui. Abbiamo due studi già a buon punto e una ricerca di camerino ultimata. Quindi vanno solo autorizzati e prodotti perché non serve la licenza. Capite? Quindi questa poi va avanti. Ci sono altre cose interessanti che dice Saltamartini questa mattina come per esempio che non comprerà mai i vaccini cinesi perché dice di quelli non mi fido. Poi c'è un'altra interessante iniziativa proposta per lo meno degli industriali pesaresi guidati da Papalini che dicono perché non ci date la possibilità mettendoci d'accordo con l'Asur di allestire un camper che possa viaggiare per tutto il territorio provinciale e consentire in tutta sicurezza che la vaccinazione dei lavoratori delle imprese nostre associate ovviamente rispettando poi quella che è la sequenza delle priorità fissate dalla regione Marche quindi nessuna via di fuga nessuna precedenza cioè andando a rispettare quello che è l'ordine stabilito. E quindi si potrebbero vaccinare con questo camper a disposizione per fare questi vaccini i tecnici delle aziende che devono per esempio installare impianti collaudarli che hanno la necessità di spostarsi frequentemente non solo fuori regione ma anche fuori dai confini nazionali. E nell'articolo scritto da Letizia Francesconi questa mattina si fa appunto riferimento a questa iniziativa dove tra le prime aziende disposte a concedere e organizzare spazi per esempio e logistica ci sono anche il gruppo BS la Schnell la Benelli Armi che sono pronte a mettere a disposizione anche quegli spazi che servono per vaccinare al di là del camper abbiamo visto e lo vedremo anzi tra poco come insomma alle cellette non è che siano andati è andato tutto perfettamente soprattutto con gli spazi la logistica gli anziani costretti molto ad aspettare un po' tutti assembrati insomma sembra che sulla scelta dei luoghi per fare le vaccinazioni non siano andate le cose non siano andate proprio benissimo e quindi insomma gli industriali dicono noi abbiamo i capannoni abbiamo le industrie abbiamo tanto spazio perché andare a farlo queste vaccinazioni a farle in posti magari che non sono poi così tanto idonei e anche questa è una buona è una bella proposta allora pagina 3 del resto del Carlino c'è a tutta pagina la notizia della morte del padre di Ceriscioli addio al comunista d'impresa era stato ricoverato in terapia intensiva dopo poco dopo che all'ospedale era uscito il figlio Villa Fastigi piange un'altra vittima aveva 78 anni uno dei rossi con il guizzo del capitalismo questo è il ricordo il tratto che fa appunto il Carlino sulla morte del papà dell'ex governatore Ceriscioli andiamo adesso invece a pagina 5 del quotidiano nazionale il resto del Carlino perché? perché si parla di quello che è un segreto ma insomma segreto si fa per dire è un po' un buonsenso il buonsenso di Johnson il segreto di Johnson che scrive Paco Misale avrà tanti difetti ma non certo quello di perdere tempo è stato il primo e forse l'unico Johnson al mondo a mettere da parte la burocrazia le lungaggini gestendo l'emergenza con un unico obiettivo quello di vaccinare il più possibile nel più breve tempo possibile così oggi in Gran Bretagna ci sono già 18 milioni di britannici protetti dal covid e a maggio saranno quasi la metà tutti dai 50 anni in su ovvero la popolazione più a rischio il primo vaccino in Gran Bretagna è stato somministrato il 9 dicembre ad una donna di 90 anni il primo febbraio Johnson ha annunciato che erano stati vaccinati tutti gli anziani delle case di riposo focolai di infezioni micidiali all'inizio della pandemia il record qual è questo record? il 19 febbraio il Regno Unito ha sfiorato i 18 milioni di vaccini somministrati un record ottenuto con uno straordinario piano organizzativo che ha messo in campo anche cinema chiese e moschee cioè tutti quei luoghi dove si poteva chiedere alle persone di stare lì vuole per essere per prendere e farsi fare la punturina niente pronotazioni si viene chiamati e c'è un medico italiano vedete nella fotografia qua Pierluigi Struzzo medico in pensione che si è trasferito a Londra come vaccinatore a dicembre dice aveva previsto se i centri lavoreranno davvero 12 ore al giorno perché così succede 12 ore al giorno feste comprese arriveremo ad una grandissima fetta di popolazione e così è stato intanto in Italia di che cosa si parla invece del bando Arcuri un disastro ecco siringhe pagate dieci volte di più ecco qui là fanno 12 ore al giorno i vaccini e hanno già vaccinato una marea di persone qui noi addirittura non riusciamo nemmeno a comprare le siringhe anzi le compriamo le paghiamo dieci volte di più e a volte sbagliamo anche quindi capite è un'altra roba il bando dice un disastro Marconi presidente della Reis di Osimo e il caso della Luerloch per i vaccini non arrivano i quantitativi indicati le aziende ospedaliere si rivolgono a noi e qui c'è questa intervista sulla quale si comincia parlando di siringhe come dicevo ogni siringa per le vaccinazioni viene pagata dallo Stato dieci volte il prezzo di mercato è assurdo ma ora che inizia la campagna vaccinale arrivano numerose richieste dalle aziende ospedaliere e Stefano Marconi che vedete in questa foto è presidente appunto di questa società tutto parte da questa gara dice lui indetta dal commissario Arcuri il 7 dicembre con la richiesta di consegna delle siringhe entro la fine dell'anno poi c'è tutta la questione che potrete approfondire con il Corriere Adriatico nel Corriere Adriatico di oggi intanto a pagina 7 invece c'è un'altra intervista interessante sul Corriere Adriatico al professore Andrea Crisanti Crisanti che critica il metodo seguito con i test antigenici nelle marche lo screening secondo lui ha secondo Crisanti ha un impatto ha avuto un impatto quasi nulla e quindi critica se c'è un'adesione tiepida allo screening di massa e allo stesso tempo si usa un tampone antigenico che ha una prestazione del 70% ovvero su 10 positivi ne prende 7 l'impatto è quasi zero e questo è il giudizio su quanto avvenuto appunto qui da noi intanto le farmacie nelle farmacie comunali di Pesaro Urbino ci si potrà fare il tampone rapido e ce ne sono due in particolare a debuttare due farmacie di Pesaro che sono quelle di Soria e Cattabrighe gli effetti della pandemia ormai sono mesi che lo diciamo anche qui in Rassegna Stampa abbiamo già più volte parlato di questo aspetto gli effetti collaterali del lockdown gli effetti di queste notizie di questo terrorismo a volte spesso anche mediatico soprattutto anzi mediatico e guardate qui cosa scrive oggi il resto del Carlino mio figlio di 8 anni non esce più di casa effetto covid bimbi spaventati e depressi una famiglia sprofonda sprofondata nell'incubo è terrorizzato di ammalarsi passa tutto il suo tempo attaccato ai videogame questa sarà la la sfida che si che che si dovrà vincere dopo che sarà passato tutto quanto avremo una generazione di giovani pornodipendenti videodipendenti e tutta una serie di problematiche che solo al pensiero caro mio covid sarà una una guerra ben peggiore da vincere e però questo questo è questo è intanto l'articolo di Alessandro Belardetti lo trovate sul resto del carino di oggi anche questo è molto interessante a pagina 7 andiamo avanti a Cantiano torniamo nel Pesarese siamo al confine con l'Umbria non c'entra nulla il covid è una notizia di cronaca un incidente un incidente nei boschi di Cantiano dove ha perso la vita Fausto Perioli ucciso da un albero caduto in questo luogo dove vedete la foto pubblicato qui nella fotografia a destra Cantiano è tutto il paese sgomento per la morte di questo 56enne ucciso appunto dall'albero probabilmente il funerale sarà domani nella chiesa collegiata la salma è stata trasferita a Urbino per effettuare l'autopsia Perioli viveva con la famiglia nella frazione di San Crescentino di Cantiano lavorava in un'azienda artigiana metalmeccanica insieme a due soci del posto lascia i genitori la moglie Antonella due figli maschi Marco e Simone poi la sorella Marta titolare del ristorante della stazione di posta a Ponte Riccioli insomma ha lasciato davvero questo signore questo Fausto ha lasciato tutto il paese sgomento intanto gli incidenti anche ieri ci sono stati tanti incidenti a catena nelle strade della provincia di Peso Urbino quattro feriti anche uno grave un motociclista il 62N un 62N che si è scontrato a Ginestreto con un'auto impegnata nella retromarcia questo è l'incidente invece che vedete avvenuto a Sasso Corvaro con l'intervento anche dei vigili del fuoco a Sasso Corvaro un mezzo si è ribaltato dopo aver colpito un palo della luce e poi c'è stato anche un fuoristrada di cui parla sempre il Corriere Adriatico questa mattina un fuoristrada a Cagli dove sono stati soccorsi tre giovani amici solo uno ha dovuto ricorrere le cure dei sanitari in ospedale tornando al al covid e a quello che sono le restrizioni sono i controlli gli antiassembramenti e quant'altro il fine settimana è stato un fine settimana caldo nella provincia di Piesa Urbino a Pesaro in particolare due locali chiusi e anche addirittura un arresto sigilli per un giorno al bar di via Mendola e al bazar di via Cavour collutazione tra un 54enne senza mascherina e i vigili che sono stati costretti poi ad arrestarlo a mettergli le manette ai polsi mentre sull'altra pagina quella di Fano del Corriere si parla invece della rotatoria che si trova vicino all'aeroporto quella rotatoria è uno spreco dovete sostenere l'economia i lari della Lega contro l'intervento a servizio della piscina troppi ora anche un milione 4 per l'arredo di Piazza Andrea Costa poi sindrome dei 100 sintomi il pilota Gaggi in pista per dare visibilità alla lotta contro la fibromialgia affligge 30.000 marchigiani la presidente di questa associazione dice e ora ora c'è una legge una legge regionale poi per i bisognosi 300.000 euro di buoni spesa è la cifra messa nel bilancio del Comune di Fano bilancio di previsione 2021 conti fluidi ma non lasciamo indietro nessuno servizi educativi 600.000 euro in più Anna Marchetti questa mattina fa il bilancio il resoconto di quelli che sono i capitoli di bilancio in questo bilancio di previsione 2021 con l'assessore Cucchiarini nella fotografia che indica come verranno spesi dove verranno spesi perlomeno i soldi però in questo in questo 2021 quali sono i soldi messi capitolo per capitolo bilancio poi sempre a Fano giunta riunita sulla ciclovia matarsi accusa visione minope la consigliera chiudere oggi al progetto turistico significa precludere anche la metropolitana leggera mentre basta con il caos in viale primo maggio c'è anche chi vuole la variante Gimarra residenti sollecitano la giunta traffico dell'Adriatica tutte le ore e rischi per i negozi e l'assenza di marciapiedi quindi si parla di viabilità mentre sulla pagina della Val Cesano da San Costanzo c'è questa notizia di una donna che di professione fa l'infermiera che così come tutti noi tanti di noi che hanno un cellulare ogni giorno viene tartassata da telefonate di call center che propongono cambi di gestore per quanto riguarda l'energia elettrica il gas la telefonia di tutto di più e c'è qualcuno che insomma è arrivato a ricevere anche 12 telefonate al giorno quindi diventa veramente uno stress uno stress non di poco conto soprattutto se poi chi riceve queste telefonate per esempio fa l'infermiera quindi fa dei turni anche notturni e allora a un certo punto quando va a casa vuole stare un attimo tranquilla a spegnere il cellulare magari no perché potrebbe essere contattato potrebbe eccetera quindi l'unica soluzione qual è? Lei ha pensato adesso scrivo tutti questi numeri che chiamano su Facebook li metto alla gogna e così vediamo che cosa succede succede che cosa? Che ha ricevuto tanti messaggi sui social su questa sua pagina di solidarietà innanzitutto ma poi anche di condivisione perché in tanti sono appunto a ricevere ogni giorno queste telefonate così inopportune che cosa si può fare? Beh forse chiamare il proprio gestore telefonico e avvisarli che c'è questa attività e quindi cercare di mettere una black list o cercare di fare in modo che non arrivino più queste telefonate quindi parlare con il proprio gestore telefonico ora questa mattina c'è una andiamo a Pesaro c'è una conferenza stampa che ha indetto Matteo Ricci Matteo Ricci sindaco di Pesaro il quale Matteo Ricci però a differenza delle altre volte stavolta ha semplicemente scritto invitando i giornalisti che ci sono delle comunicazioni da dare punto non è nello stile di Matteo Ricci ovviamente quindi questa cosa ha fatto scattare i cosiddetti rumors di cui parla il Corriere Adriatico questa mattina che cosa succederà questa mattina che cosa ha di così importante o di così segreto Matteo Ricci da comunicare ai giornalisti in mattinata appuntamento alle ore 11 a Pesaro ora il Corriere Adriatico avanza due ipotesi vediamole allora quali sono queste due ipotesi il primo cittadino scrive si è tenuto piuttosto sul vago anzi vaghissimo lasciando nel limbo gli interlocutori che ruotavano attorno a due poli gli interlocutori che giustamente chiedevano ma sindaco ci può dire di più perché che tipo di comunicazione ci deve dare nessuna risposta allora le ipotesi sono due o Matteo Ricci comunicherà di aver ricevuto un incarico prestigioso e pesante a Roma visto anche il walk in progress del governo Draghi oppure deve semplicemente comunicare il nome del capo di gabinetto che dovrà prendere il posto del fidatissimo Franco Arceci e il cui bando è scaduto giusto sabato scorso allora per risolvere il mistero bisognerà aspettare le 11 e 2 minuti il tempo di battere la notizia su Twitter o su qualche social e sapremo qual è appunto questo mistero svieleremo il mistero intanto andiamo avanti a pagina 21 del Corriere Adriatico la pagina di Senigallia ancora gli effetti di questi di questo lowdown di queste restrizioni sorpreso a vendere alcol a minori multa a un barista ragazzini sanzionati la violazione riscontrata dalla task force al foro verificato anche rispetto delle norme anti-covid certamente qui le norme anti-covid non c'entrano nulla perché vendere il codice ai minori è vietato anche in tempi non-covid anche il resto del calino pagina 7 alcol ai minorenni a minorenni multato un locale fine settimana con pienone a Senigallia controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle restrizioni sono stati 5 i ragazzi di 17 anni trovati con alcolici gli agenti hanno avvisato le famiglie ecco qua 17 anni con le bottiglie dell'alcol in mano Monte Marciano riconoscono sul web la merce rubata 3 invece le persone 3 persone denunciate poi a Corinaldo mura crollate famiglie a casa a Corinaldo conclusa la prima fase delle operazioni siamo alle pagine sportive nella nostra segna stampa di oggi allora intanto la bella notizia è che il Fano continua a vincere l'Alma continua a vincere addirittura a Mantova ha segnato due gol si porta a casa i punti allora Gentile Ferrara l'Alma spugna Padova Mantova questo è il titolo gran colpo salvezza di Granata dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0 nella ripresa la squadra di destro che è l'allenatore piazza invece l'1-2 mentre a Pesero è l'allenatore di Donato in bilico l'ipotesi Fontano-Sandriani perché perché la Viss invece continua a perdere terza sconfitta consecutiva ecco alcune delle possibili soluzioni in caso di cambio dalla società però non arriva nessuna conferma la Viss che ha perso in casa contro il Perugia 1-0 solito copione K.O. col Perugia ed è di nuovo in piena zona rossa poi per quanto riguarda gli altri sport non c'è soltanto il calcio c'è anche per esempio il salto in alto con Gianmarco Tamberi che dopo l'infortunio lui è un 28enne marchigiano campione italiano degli assoluti indoor e che dopo l'infortunio torna torna protagonista Tamberi nell'alto aggiunge un centimetro al record stagionale di Torun che è di 2,35 è il migliore al mondo del 2021 e con questa buona notizia noi ci fermiamo qua la rassegna stampa torna domenica alle 7 questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale e poi subito dopo c'è in diretta primo cittadino ospite di Simona Zonghetti c'è Massimo Seri il sindaco di Fano grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie per la visione